Ciao ragazzi, sono BokoGamers, io sono Tsuki e io sono Ryozan Ben ritornati a questo è l'episodio di Senseiya Shining Soldier Senseiya! Oggi avveremo una nuova rubrica fatta di PvP Ci stavamo pensando a lungo su quale fosse il format Però faremo un po' a caso, diciamo così Oggi facciamo una collab con Joseph Del canale Telegram di Senseiya Shining Soldier Che trovate in descrizione Io ci ho già giocato in passato Sicuramente se ci seguite l'avete già visto Oggi toccherà la nostra Pro di Tsuki sfidarlo Io le auguro buona fortuna perché lei poverina Non è fortunata con i pool come avete visto Quindi ha un team solo Beh andiamo che lui ha già gioinato E siamo pronti Quindi lasciate tanti mi piace per far vincere la nostra Tsuki raga Faremo 4 round Esatto Lui probabilmente cambierà team perché è più fortunato di Tsuki Lui vedrà sempre il mio solito team E quindi probabilmente imparerà a counterarlo Ma penso che già dal primo scontro sarà molto diverso Comunque buona fortuna entrambi Tu hai Yonos come frase Ci vediamo subito Da noi ci sono le cornacchie Ci siamo comunque Ecco l'ingresso di Canon contro Shura Blue Shura Blue Come ti trovi Joseph con Shura Blue? Eh vabbè grazie Guarda ti voglio bene Oh non ti ha dato neanche una C Ma parliamore raga Ma cos'ha questo gioco? Ha problemi col Cosmo secondo me Eh Vediamo un attimino Ok probabilmente sta usando l'Excalade Yes E la Peppa Incredibile Guarda quanto mi fa male lui adesso Eh beh beh siamo lì dai Io che fai bevi durante i miei video Complimenti Allora L'essere umano ha bisogno di bere per sopravvivere Se non volete vedermi morto Che già fa un caldo boia qui Non so se avete notato le mie maniche corte Quindi Già che ho dovuto spegnere il ventilatore Perché ad esempio si sente nel microfono Raga sto morendo Prima di morire ti abbassa la difesa A tutti Così indistintamente Allora Qual era la skill qua di lui di Milo Che l'ho preso da poco E non so quale fosse Quella Antares no Questa era sì Scarletto Needle Scarletto Needle Ah beh giustamente mette Vediamo quanto schifo faccio con Milo Beh 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 Adesso un bel Antares e questo è un nano Who knows Continua ad armi cosmoa Ah hai fatto la 9 Che? Potrei fargli la 2 e shottarlo Ah eh non ci potrei farlo Perfetto è tu Antares No altre idee Ok Ho dovuto spegnere tutti il caio Questo è un muro No C'è anche un pezzo colore Il meglio non Quello è un tank tra l'altro Il problema è che adesso ti becchi il Ryusei Ken del suo 6 No Era questo il mio piano Quanto è un tank tu? Che c'è? Scherzo Che la guerra dei mille giorni è odiosa Vinta Però perdi lo stesso Milo Capito Lui invece lo si gira Tutto il fatto di me Adesso devi vincere Se vinci questa guerra dei mille giorni È fatto Praticamente Cosmo permettendo Vuoi che lo mi dia B? Non me ne darà Perché l'hai detto? Non me ne darà Perché sto benissimo Scusa Cos'è? Non la va No guarda Dalla punk Ho seia E invece no E invece no E invece no Non sottovalutare il mio seia Io lo sapevo che non moriva Ma non è vero Smettila Ma smettila Ma smettila Ma smettila Ma smettila Sì No Io me ne ho fatto Ma cos'è questo scontro? Perché non ci sei gli sticker da mandare? Ma cosa Vogliamo gli sticker da mandare? Ma cosa ho visto? Ma cosa ho visto? Era mia Vabbè Cioè Era sua Poi era di Zucchi E poi di nuovo di Vabbè Di Joseph Vabbè Che roba raga Vabbè 1 a 0 per Joseph Vediamo un attimino Cosa succede? Boh Cosa ho visto? Io boh Questo è un team di bronzini Si capisce subitissimo Eccoci qui Succhi Stesso parte Come al solito Stessa spiaggia Stesso mare Stiamo organi Tu Insomma Vabbè Io non commento Cosa farai Cosa farai? Sono decisa Se attaccarlo Perché comunque Ti fa risassi C'è la skill nera Anche Appunto E per quello Garethissima Si dà Ecco il Galaxy on X Ecclusion Non tantissimo E' la Peppa 70 di K Considerando anche Che non è esattamente Un peggior Che il single Guarda quanto Ve ne fa lui 35 Sì ma guarda I miei HP Sono meno Dei suoi Beh Quello è un tank E niente Siccome è canon Gli dirò addio Praticamente Adesso Farò così Ciao canon È stato bello Conoscere Scarletto Needle Antares Bello E vabbè Adesso lo ammazzi Spero Allora Era questo Giusto Quella lì è più forte Quella non lo so Ci provo Dai Me la rischio Tanto non dovrebbe riuscire Ad ammazzare Che orina È un tank Non ti ammazza Sì Antares Non l'ho mai vista L'effetto Sera di Antares Scappetto Needle Antares Questi rimbalzi Danno potenza In realtà Eh Spettacolare Rip Ok Adesso Questo 6 Ha la skill più veloce Che è una 8 Oh Volendo potreste Giocarvela poi con 6 Esatto Avrei fatto anche io così Diciamo che Non avrebbe senso Non fare Diversamente Ok Adesso Ho caricato La SSA E lo stesso farò La guerra Di mille giorni Tanto Non l'usa Beh perché è verde Quindi usa la rossa E si chiesse Ma fa l'attaccia Tanto Soprattutto Sopravviva Però Però Io ho fatto comunque male Ciao Ne Adesso Ciao Ne Ciao Milo Bye Milo Bye Milo Bye Milo Io boh Cioè ma una può perdere così Perché non è solo in In ranked Anzi Non è solo qui nelle amichevoli Anche in ranked Questa sconfitta Ha una tristezza così È proprio amarissima Boh E niente 2 a 0 Per Joseph Una dice Vabbè Me la gioco Con la guerra Di mille giorni Anche se faccio schifo Ed è La B è quella Che ne hai di più Tra l'altro Non te ne ha dato Neanche uno Allucinante Questo è un team fisico Di Gold Saint Più Krishna Blu Vediamo un po' Vediamo Vediamo Com'era Io ragazzi Non commento A dopo Eccoci qui Vediamo un attimino Che cosa ha preparato Joseph Ovviamente va primo Con la Yolos Perché ormai sa Chi mette su Chi primo Te l'ho detto Nel corso di questa sfida Imparerà a counterare Il mio bar Beh beh è chiaro Una volta che lo affronti Sempre uguale Sempre uguale È normale Stessa spiaggia Stessa spiaggia Stesso mare LOL Adesso però siamo da Tena Sì Siamo da Tena Stesso tempio Stesse scale Togli tutti dai buff Ah immaginavo E io glieli rimetto No Oh sì Massiva E io te le rimetto Che gioco è raga Che gioco è raga Che gioco è raga Che gioco è raga Let's go Ammazzalo Basta Mi è pietoso Quello che sto avvenendo Ma basta Mi hai rotto E io faccio così E vabbè Cioè io ho messo anche i bleed Incredibile Qua c'è anche un attacco LOL Ce l'ho Vinci adesso Mi sono allenata Anche se non renco Mi sono allenata Grande Zucchi E adesso qua Poi decido Un attimo Che voglio fare Con Aiola Cioè Canon ci vola Con Aiolia Quindi mi è andato così Lidamente Prima di Ambas No Sbicciata Per evadere E non so Perché ci ha basso Vantaggio con loro Con Canon Vediamo se capisce A mia predetta Perché Per evadere Galaxian Exemplution Aia Mettoriti No Aio Boh Adesso pure Il canon Va la mente Sì Non regge niente Il canon L'ho già L'ho già Provato E' già volato Così Sopravvi Che HP Non ho buff Vabbè Magari anche con gli equipers Può che travi un po' più Spurri Un po' più Spurri Un po' più Adesso ho la speed Di più c'era La panica Vedrai Sì Eccola qui Rift Qui c'era Setsuki Setsuki se la gioca Bene Ma penso che adesso Vedremo il team Con Fenrir Eh sì Io bevo Ma dai anche un pochino Meglio Vuoi bere Sì Sipriacchiamo con l'acqua Con l'acqua Sono le sbronze peggiori Raga Dai eh Dai eh Joseph Ci vediamo appena decide il party Esatto Vediamo un po' E che c'è E appunto No questo è il tuo party Quello che ti ha usato all'inizio Non ne ha ne altri anche lui Vabbè Maimma L'ho preso anch'io Ma non so che farne Boh è un baian Che non ci ha creduto abbastanza Vabbè Ci vediamo allo scontro E infatti Vuole vedere se Se hai capito come counterarlo Vediamo un po' Allora Tanto con Con lui Mi fai abbastanza dando Quindi Meglio andare Così E' il caliper Ciao E' il caliper Ciao E' il caliper E' incredibile E' sopravvissuto E allora Mi sa che devo continuare con la 9 Perché io sono quasi morta E' Lui aveva qualcosa Skill 9 La più veloce è 7 La sua Ma lol Non c'ho voi A parte che non faccio nulla con lui E' il caliper E' il caliper E' il caliper Beh, 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 beh Beh, 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 beh E' anche la scheda della panca Allora Adesso sto in decidere se Lanciare questa O questa qui Lui c'ha una speed 8 Anche E allora Mi sa Ok Vado dalla panca Mi ha dato la 4 Forse non voleva sprecarla Ingraverebbe Però magari adesso Deve andare in mille giorni E sperare che basti per uccidere Eh, sì La speed 9 E' l'unica O almeno Fa' gli abbastanza danni Non è andato con la 9 Sì, perché è verde lui Quindi sa Con la rosa E' un po' se sopravvivo Troppo HP Direi sbloccato il Tipo l'uovo Il zodiac La way Non ne avevo Quando l'ho preso E allora è per quello Siccome l'avresti deciso Devi anche la ssa E adesso Adesso devi andare a guerra Nei mille giorni E poi sperare che ti dia le B Contro Shu Si è fatto ammazzare Si Cioè non le ha dati a lui Skin dalla panchina Adesso Sono importanti Quindi bisogna anche Pensare a quello Si ma sto qui E' un cesso Dai Zucchi E' la verità Ma c'è il vantaggio colore Lo so Ma è un cesso Cioè Non è così Diciamo che In un top team Non ci entrerebbe mai In un team for fun Ci può entrare Infatti è un cesso Ma ti è un cesso Zucchi Ma non per tanto per Joseph Proprio per il personaggio E poi per il PG Che ti sto dicendo E' brutto Concepito male Non è concepito per essere un top Avete visto quanto faccio schifo Nel PvP Ho vinto solo una volta Ma probabilmente Per fortuna Perché E' impossibile Allora La fortuna fa parte del gioco Iniziamo con il dire quello Quindi Come l'ha avuta prima Joseph Poi l'ha avuta tu E' normale Si bilanciano Lasciamo perdere E niente ragazzi Se vi piace Il nuovo format Dei PvP Fatecelo sapere Che così ne portiamo di più Esatto E niente E prima del prossimo Avvincente episodio Di Sensei Asshining Soldier Zucchi vi invita Seguici su tutti i nostri profili social Che troverete In link in descrizione Iscrivetevi al nostro servidisco Iscrivetevi al canale Condividete A mettete un piaccio Attivate la campanella Supportateci con tanti mi piace Commenti eccetera Passate a trovare Nostri amici Della comunità italiana Di Sensei Asshining Soldier Di cui appunto Qua porta anche Joseph E noi ci vediamo Alla prossima Alla prossima Ciao Ehi tu Si proprio tu Non puoi chiudere il video Senza aver messo like Che senza condividerlo Non vorrai mica Far arrabbiare Bocco Non sei ancora iscritto Al canale In alto Troverai il nostro Magnifico Trio in versione ridotta Cliccaci sopra E attiva la campanella Non preoccuparti Non attiverà Strane e suonerie Ma ti avviserà Non appena sarà disponibile Un nuovo video In alto Nei due lati Invece Troverai due video Scelti apposta per te Con le mie zampette Grazie per aver seguito Fino alla fine Ci veniamo Que Alla prossima Chàààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà